Dal 6 al 17 settembre prossimo in piazza del Mercato Nuovo a Prato torna l'appuntamento con la Palla Grossa, 12 giorni nel corso dei quali si alterneranno concerti gratuiti, spettacoli comici, esibizioni artistiche e le tradizionali sfide all'ultima posta dell'antico gioco della tradizione pratese, a organizzare la rassegna per il secondo anno consecutivo e music staff. La tradizione che ormai credo consolidata è che assegniamo, consegniamo alla prossima amministrazione auspicando che questa sia mantenuta nel corso del tempo senza discutere più del sé, ma discutendo come abbiamo fatto noi con i colori e con gli organizzatori sul quando, sul dove, sul come. Le semifinali della Palla Grossa sono in programma sabato 9 e domenica 10 alle 21. I primi quartieri a scendere nell'arena di piazza del Mercato Nuovo saranno gli azzurri di Santa Maria e i gialli di Santo Stefano. Il giorno dopo sarà la volta dei rossi di Santa Trinita, campioni in carica, che sfideranno i verdi di San Marco. Le squadre vincenti poi si daranno appuntamento sabato 16 settembre, sempre alle 21 con la finalissima. Tra le novità di quest'anno il ritorno della sfida delle tessitrici. Stiamo lavorando per riportare, oltre alla partita dentro l'arena dei quattro colori, anche la sfida delle tessitrici. Purtroppo siamo un po' quest'anno in ritardo, ma era una cosa che era anni che io avrei voluto riportare, come era negli anni 70 e 80, fino agli anni 90, e riportare anche quella gara lì.